Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Il nome della serie con Keren Bursin e Afsanur Sankaktutan è cambiato, Jakok Seversen. Riunendo Keren Bursin e Afsanur Sankaktutan, la serie tv via Jakok Seversen incontrerà il pubblico su Canal di a luglio. Sono iniziate le riprese della serie IAPM con Keren Bursin e Afsanur Sankaktutan. La serie scritta da Kubra Sulun si chiamava inizialmente Idailit, ma è stato rivelato che i diritti su questo nome erano stati precedentemente presi da un altro produttore. Anche se in seguito si è deciso di chiamare Korkutuk, questo nome non è piaciuto e il progetto è stato finalmente chiamato Jakok Seversen. La serie racconterà la storia di Uzz, a cui viene chiesto di prendersi cura dei suoi fratellastri per volontà del padre, di cui è offeso. Nella serie, Attice Aslan interpreta la zia di Uzz, la governante di Serif Erol Uzz, Bige, amico di Cemre e Buzziya Uzz, Jakap, il padre di Nasmi KRK Leila, Umut, il fratello maggiore di Aziz Kaner Inan Uzz, la sorella di Mine KL Leila, Meriem, Duru Kancelikai e interpreterà lei la sorella Bar, Osgun Akak e interpreterà il pilota di Uzz, Mert, e Adi Inculce interpreterà il fratello di Uzz, Aidos. Cosa ne pensi della nuova serie di Kerem Bursin e Afsanur Sankaktutan Jakok Seversen? Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.